Volere Potere, le donne nella storia di Pavia, è giunto ormai alla terza edizione. Un'iniziativa nata per far conoscere la storia delle donne e il loro ruolo nella società, nel lavoro, nella cultura e nella famiglia. Terza edizione di Volere Potere, le donne nella storia di Pavia. Ne parliamo insieme all'assessore alle pare opportunità, Cristina Agnotta. Sì, abbiamo pensato questa nuova edizione, visto il successo di pubblico delle precedenti due, e abbiamo pensato a quattro nuovi luoghi da far visitare sotto un'ottica diversa, che è l'ottica femminile, vedere come le donne sono state rappresentate nel corso dei secoli, che ruolo hanno avuto nella società, nell'arte e nella cultura in generale. Apriremo al pubblico, in particolare alcuni luoghi che normalmente non sono aperti al grande pubblico e inviteremo i visitatori a vederli sotto un particolare aspetto. Le visite sono quattro, a partire dal 7 ottobre, e sono gratuite. La prenotazione è preferibile, è il numero che vi verrà indicato. Della programmazione di questa edizione di Volere Potere, ne parliamo insieme a Ilaria Nascimbene, dell'Associazione Progetti. Sì, grazie all'assessore Gnotta che per la terza edizione consecutiva ci dà l'opportunità, e dà l'opportunità a tutti i cittadini pavesi e non solo, di scoprire alcuni luoghi, e questa è la finalità dell'iniziativa, che di solito il visitatore incontra, conosce durante il suo cammino, ma che certo non conosce dal punto di vista femminile. Quindi, proprio per questi quattro appuntamenti, apriremo quattro luoghi, uno diverso dall'altro, che racconteranno la storia al femminile. Allora partiamo proprio dal primo appuntamento, il 7 di ottobre, ore 15.30, con ritrovo presso la biglietteria dei Musei Civici del Castello Visconteo. Donne sirene, il potere del simbolo. Andremo a scoprire la simbologia medievale dell'arte, della scultura, legata alle donne. I resti delle cattedrali gemelle, cattedrali scomparse, perché abbattute per costruire il nuovo Duomo rinascimentale, che tra l'altro verrà inaugurato a breve, dopo i recenti restauri, e quindi sarà un percorso virtuale per la ricostruzione di queste due cattedrali gemelle, che erano presenti proprio nel cuore di Pavia, chiese romaniche, intitolate a Santa Maria del Popolo e a Santo Stefano. Erano le cattedrali, una invernale e una estiva, proprio nel periodo medievale, adiacenti alla Torre Civica, che tra l'altro era proprio il loro campanile. La donna vista prima come angelo, poi come tentatrice, ha dato sicuramente ispirazione a molti artisti e anche alla cultura locale. Poi, domenica 14 ottobre, ore 15.30, presso la piazza del Collegio Borromeo, parleremo di storie di collegio, il potere dell'istruzione. Il Collegio Borromeo ci offre l'occasione per parlare dell'istruzione femminile, spesso trascurata. Il tasso di analfabetismo, ancora nel Novecento, almeno nel primo ventennio del Novecento, per quanto riguarda le donne, era molto alto. Oggi, invece, le donne sono brave, dobbiamo dirlo, sono le prime per numero di iscrizione presso le università, raggiungono risultati importanti, spesso migliori. E quindi racconteremo questa parte della storia pavese interessante, anche perché con l'Università di Pavia, insomma, come non parlare di un appuntamento, come quello dell'apertura del Collegio Borromeo, per quanto riguarda la sezione femminile, che ha anche suscitato, insomma, discussioni. E quindi sarà un percorso che ci auguriamo interessante. Poi, domenica 28 ottobre, 15.30, Corso Garibaldi, numero 60, presso l'Istituto Canossiano. Donne di fede, tra cultura, potere e carità. Partiremo da Maddalena di Canossa, una veronese, vissuta tra 700 e 800, che però diede origine, grazie ad una figlia della carità, ovvero ad una suora canossiana, una delle prime suore canossiane, un percorso di evangelizzazione, non solo a Pavia, quindi partì proprio da Pavia questo itinerario, in tutta Italia e anche nel mondo. E le madri canossiane parteciperanno attivamente a questa visita. Domenica 4 novembre, ore 15.30, via Adanegri, numero 2, Immagine di donne, arte e potere. Saranno due le chiese che visiteremo. Santa Maria incoronata di Canepanova, nata da un affresco miracoloso, della figura sacra per eccellenza femminile, che è appunto la Madonna. E poi visiteremo Santi Primo e Feliciano, dove vi è una navata chiusa al pubblico, solitamente la navata gotica, così viene comunemente ricordata, con degli affreschi, le anime del purgatorio, che salgono al cielo, e una figura femminile di difficile interpretazione e identificazione. Quindi racconteremo anche la storia di tutti gli studi recenti che ci sono stati. Grazie ancora a tutti e vi aspettiamo numerosi. Grazie.